buongiorno a tutti e ben trovati alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di mobilità 2024 2025 ricordandovi inoltre che da domani e da dopodomani 8 marzo inizieranno le domande anche per il personale ata e che stanno proseguendo la presentazione delle domande fino al giorno 16 di marzo per il personale docente e anche per il personale educativo diciamo che diamo dei chiarimenti particolari a delle domande che ci avete proposto domanda numero uno posso richiedere il ricongiungimento al mio convivente di fatto nel comune x dove risiediamo faccio presente che non sono sposata ma convivo da anni con il mio compagno nello stesso domicilio anagrafico nello m 30 del 23 febbraio 2024 è chiaramente scritto in più passaggi che il punteggio di sei punti per il ricongiungimento al coniuge o alla parte dell'unione civile si applica in caso di non coniugati anche al convivente di fatto dell'articolo 1 commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 la numero 76 per cui la risposta è affermativa ci si può ricongiungere anche al convivente di fatto purché sia anagraficamente riconosciuto come convivente e questo va puntualmente documentato ai sensi del articolo 4 comma 9 dell'ordinanza ministeriale sulla mobilità 24 25 passiamo alla domanda numero 2 la docente che ha il coniuge militare che viene trasferito d'ufficio in altra provincia ha diritto al trasferimento con precedenza nel comune o nella provincia di cui il coniuge è stato trasferito si ha pienamente diritto al trasferimento con precedenza ai sensi dell'articolo 13 comma 1 punto 6 del contratto collettivo nazionale integrativo di mobilità 2022 2025 in merito alla documentazione per i beneficiari di tale precedenza che appunto deriva dall'articolo 17 della legge 28 luglio 99 numero 266 e dall'articolo 2 della legge 29 marzo 2001 numero 86 si precisa che per fruire della precedenza riconosciuta al coniuge convivente rispettivamente del personale militare o del personale in cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nella condizione prevista dall'articolo 17 delle legge del 28 luglio 99 la numero 266 dall'articolo 2 della legge 29 del marzo 2001 la numero 86 il personale interessato dovrà allegare un'autocertificazione del dalla quale risulti che il vedesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità nonché una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità con la quale il coniuge trasferito dichiari di essere convivente con il richiedente dunque si tratta di trasferimento d'autorità in una sede d'autorità non trasferimento domanda volontaria dunque la precedenza scatta ripetiamo se il coniuge militare è stato trasferito d'ufficio cioè in una sede d'autorità domanda numero 3 come funziona la preferenza di avere come trasferimento una cattedra oraria esterna fra comuni differenti il sistema prima soddisfa su cattedre intere e poi sceglie le cattere orario oppure segue l'ordine di preferenza a prescindere se c'è una cattedra intera o una cattedra oraria beh la risposta è proprio quest'ultima parte cioè il sistema sceglie secondo un ordine di preferenza senza guardare se viene soddisfatto in una cattedra intera o in una cattedra oraria nella domanda di mobilità esiste a margine delle preferenze da scegliere l'opportunità di richiedere cattere orario nello stesso comune o in alternativa addirittura cattedra orario esterne sia nello stesso comune ma anche in comune differenti diversi nel caso venga selezionata l'opzione cattedra orario anche tra comuni diversi il sistema informatizzato vaglierà ogni singola preferenza nell'ordine scelto e in ognuna di queste preferenze in primis cercherà la cattedra intera poi passerà a scegliere a vedere se non la trova una cattedra orario ma con completamento nello stesso comune e infine con si confronterà col sistema per trovare una cattedra orario esterna su comuni differenti attenzione perché il secondo comune quello di completamento potrebbe essere tra i comuni anche non scelti in fase di preferenza dunque il sistema si comporta così quando il sistema troverà un posto libero il docente verrà trasferito in quella sede senza verificare le sedi successivamente espresse in domanda spero che le mie risposte alle vostre domande siano state puntuali e soprattutto comprensibili ai nostri telespettatori vi ringrazio e vi rimando alla prossima puntata arrivederci